Quindi, fate qualcosa Allora, aspettiamo, aspettiamo Abbiamo tutto il tempo necessario Riguardiamo Dai, andiamo ragazzi Questo è il pezzo che un po' dà il nome al nostro paio Anche per voi là dietro, se volete è un'occasione per assistere a uno spettacolo che forse non capita Non capita, per fortuna tutti i giorni Il pezzo che dà il nome al gruppo, il pezzo si intitola The Power of Piro Ed è dedicato a Oliver Piro E purtroppo finirà su YouTube probabilmente Perché vedo che questa ripresa finirà su YouTube, lo so E così vero definitivamente sberdato da tutti Dai, dai, sei il centro del mondo Anche tu sarai sberdato, non è che adesso sono io Tutti sberdati qui Andiamo Dai, pari, pari, pari Adesso 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 Adesso